Buongiorno, colazione settimanale per me da lunedì al giovedì e mi amo frui. Vi lascio poi sopra nell'idea cliccare il link dove vi parlavo di questa colazione che ormai sto facendo da oltre un anno. Il momento di break e io lo faccio a metà mattina con un cappuccino di soia o di latte vegetale, in questo caso ho usato quello d'avena e dopo aver scaldato il latte io metto sempre un pizzichino di cannella e poi via di caffè. Ora di pranzo e oggi mangio del riso bianco con delle lenticchia e un trito di carote, porro e cipolla, anche se non si vede. Buon appetito! Ed è arrivato il momento del tè, oggi tè verde alla vaniglia. Ed è arrivato il momento della cena. Per questa sera ho fatto un'insalatona mista di cavolfiore, il cavolo bianco, con delle carote, olio di riso messo a crudo e dei semi oleosi che sono i semi di sesamo e i semi di girasole. E poi ho fatto una focaccia integrale con sopra delle patate e del rosmarino. Diciamo che è un piatto unico, molto elfi. E poi mangerò un pezzettino di questa torta, che è la torta soffice ai mirtilli, completamente vegana. Quindi non ci sono uova, non ci sono burro, latte. Ho usato del latte vegetale, ovvero il latte d'avena. E a forma di cuore sì, ma perché mi andava di farla a forma di cuore. E poi sopra le ho messo dello zucchero a velo, però all'interno ho utilizzato quello zucchero a grazzo di canna. Questi diciamo che sono stati i miei pasti per questa giornata. Spero di avervi dato qualche nuovo spunto, qualche nuova idea. Vi faccio vedere il tavolo. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo come sempre nei prossimi video. Ciao!